Ciao a tutti, oggi prepareremo il semifreddo al caffè e nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 6 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono panna fresca, zucchero a velo, latte condensato, caffè espresso amaro, caffè solubile, nutella e biscotti bandistelle. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa scegliamo il caffè solubile nel caffè espresso. Mescoliamo con un cucchiaino. Posizioniamo sulle lame la farfalla, mettiamo lo zucchero a velo, e la panna, che vi consigliamo di mettere in congelatore per 45 minuti. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo montare senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimbi. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Aggiungiamo nella ciotola con la panna il latte condensato. Amalgamiamo delicatamente. Aggiungiamo il caffè e continuiamo ad amalgamare. A questo punto riempiamo per metà degli stampi a semisfera del diametro di 7 centimetri. Posizioniamo in ogni stampino un cucchiaino di nutella. Posizioniamo in ogni stampo un biscotto pan di stelle. Ricopriamo con il resto della crema. I porri in congelatore coperto con pellicola trasparente per almeno 6 ore. Trascorsi il tempo abbiamo ripreso i semi freddi, sformare e decorare con nutella. Riempiamo una sac à poche con la nutella e decoriamo. Decorare con delle stelline di zucchero. Semi freddo, caffè e nutella. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.